Buongiorno a tutti, mi chiamo Daniele Marin e collaboro con la Reactor Bite da alcuni anni. Oggi vi voglio presentare un pellet, il combat pellet. Vi faccio vedere alcuni aromi, il miele, il green betaine, il tutti frutti, l'halibut, il caramel, lo strawberry, il krill, lo spicy, ed infine un mix di multicolori. Questo è un prodotto innovativo in quanto si può usare sia nella pesca al colpo ma soprattutto nel car fishing dove è utilizzato a fare gli stick mix e le classiche bombette. Questo si può aromatizzare con degli aromi oppure aggiungere dei coloranti per cambiare il colore in quelli più chiari se vogliamo scurirlo in posti dove l'acqua è più scura. È in confezione da chilogrammo alta per grosse pasturazioni oppure per pescare anche a fionda nelle acque basse, soprattutto dove abbiamo delle carpe che stazionano lungo le rive. Ha uno scioglimento, uno scioglimento abbastanza veloce ed è adatto per pescare in qualsiasi luogo sia dei fiumi, canali che laghi.